Nel primo fine settimana dell'esodo estivo per le ferie d'inizio agosto scatta l'allarme meteo in diverse regioni italiane, dalla Lombardia alle Marche, dal Veneto all'Emilia-Romagna. La nuova perturbazione atlantica ha già raggiunto l'Italia e nelle prossime ore rilascerà tutta la sua energia, soprattutto sul centro-nord, con piogge localmente anche a carattere temporalesco, grandine e forte vento. La protezione civile ha lanciato l'allerta avvisando chi si metterà in viaggio di prestare la massima attenzione. Sorvegliati speciali molti fiumi lombardi, dal Seveso all'Ambro, che lambiscono il centro di Milano. Sarà un'Italia spaccata in due perché tutto il sud, isole comprese, verrà invece investito da una rovente massa d'aria d'origine africana, che farà salire la colonnina di Mercurio fino a 40 gradi centigradi. Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia le regioni in cui il caldo torrido si farà maggiormente sentire. Intanto si contano i danni dell'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia centro-settentrionale negli scorsi giorni. Serre scoperchiate, ortaggi e verdure distrutte, alpeggi isolati per le violente grandinate, tempeste di acqua e vento che hanno colpito soprattutto il nord e in particolare Veneto e Lombardia. Danni ingenti per l'agricoltura, denuncia col diretti, frutteti, coltivazioni stagionali come il mais e la soia hanno subito un duro colpo. Dalla provincia di Padova a quella di Treviso, dal Veronese a Lecchese fino alla Valdelsa, in provincia di Siena, dove ettari e ettari di vigne sono stati letteralmente rasi al suolo dal vento, dalla pioggia e dalla grandine.